Aspetta, sei sulla casa? Sì, ho il rincoglionito che sta saltando Aspetta, ma sei sulla casa? No Perché stai saltando? Eh, non lo so, mi si addormentato il pollice sulla face Ah, perché tutti i miei amici saltano su Minecraft? Non lo so, non capisco Eh, perché è il bussante che fa meno danno quando lo premi più a lungo? Aspetta, adesso ti raggiungo Vieni qua, facciamo un salto insieme giù per la casa Dai, al mio via Tre Due Uno Via Comunque ragazzi, lui è dei TSC The Social Channel E siamo in un minigames chiamato MC Maids Sostanzialmente questo minigames consiste in In una specie di... c'è una principessa che si troverà più o meno nella vostra Non è Super Mario? No No Non è Super Mario? Non c'è Peach Super Mario? Questo è Super Mario questo Guarda, guarda Ha una mela nel sedere Oh no, è un pomodoro cos'è? È Babbo Natale Perché ha un pomodoro nel sedere? È Babbo Natale, sì siamo in tema Natalizio Credo sia un regalo E fondamentalmente stiamo facendo il parkour allo spawn L'altra volta sono caduto Dove sei sopra? Sopra la mappa Come cazzo fai? Non lo so Bello Io sono sopra un albero mancano 30 secondi tipo No, facciamo 20 Io ho conquistato l'albero e lo reclamo di mia proprietà Valtene stronzo Assomiglia a un mappet Ma te ne vai? Bene, iniziamo Allora, questo minigames consiste nel salvare la vostra principessa e uccidere la principessa nemica E nel frattempo dovete inserirvi nel labirinto E lasciando... È iniziato! Ecco qua, la principessa Che su... la principessa? La tua principessa, difendila Che cosa devo fare? No, siamo nemici Io sono dei... sono dei blu Ma com'è possibile? Non lo voglio sapere neanche Ma che schifo, la stessa lobby dello spawn Vabbè, in buona sostanza adesso si... Tra pochissimo si aprirà un labirinto Dove ci saranno delle chest E... Dobbiamo prendere il tesoro E voi dovrete... scappare No, dovete entrare nel labirinto e andare a beccare la principessa nemica La cosa difficile è uscire dal labirinto Poi alla principessa si pensa Ma sono un genio! Bravo Complimenti Quanto pare che io tu stai iniziando a capire come si gioca a porta a due Sì Ah, io voglio tipo eludere il labirinto Si può? No No, che succede? Stai esplodendo tu... No! Stavo esplodendo! Non lo posso vedere, porca miseria Perché mi perdo sempre i tuoi epic fail? No! Stupido Mappet, chiudi quella porta Ma perché ho quel ritardato in squadra? Vattene va! Non ti preoccupare Tu sono dentro un recinto Principessa, ti salvo io Gli sto facendo una specie di... Che animi ne si fa adesso? Da me non si è aperto nessun labirinto Da voi si è aperto? No, non c'è ancora Fai il Minotauro? Qualcuno mi ha lanciato una spada, wow Ha capito quanto sono bravo nel team Vediamo se la mia principessa ha un po' di spago Così non mi perde Che fatto giorno? Taglia Ah, vero Mi tolgo salute Stupita principessa Hai capito che il stallo è mio? Avanti Adesso si può fare Ho imprigionato la... Oddio! Eh, questo... Buio, lo gozo, aiuto! Mi segnala Mi sento drogato qua sotto Oddio Non si capisce niente Sì Ho imprigionato la principessa Non si capisce? Eh sì No, non ti senti più Ok Ok, corriamo nel labirinto Dov'è il labirinto? Wow Dov'è il labirinto? Sì Io mi ero perso Voglio salire Che stava dondolando la vista Che cazzo è? Sta laggando tutto Ma quanto sto andando? 15 Mi potevo aspettare di tutto Ma ho un quinto Allora, occhio che devi tornare Al punto di doveri prima Prima di notte Altrimenti Cioè in buona sostanza Altrimenti Rimani chiuso nel labirinto Ce l'ho fatta finalmente L'ho superato questo livello del cavo Ciao amico Chiamo a Bowser Sì Un arco Abbiamo una principessa E Bowser di Super Maghi Che cosa ci manca di qui? Yoshi Mi sono perso No No Mi sono perso Ti è venuto un'idea Dannatamente geniale Potevo tipo tenere la No Strucchi Sì Ero Ero Sei morto Mi ero arrampicato nel muro Per guardare dall'alto Mi hanno buttato giù Con un esposso È quello che ho fatto io prima Basta No Non è giusto No Mi sono perso Si chiama labirinto Per un motivo Ciao ragazzi Benvenuti in questo nuovo episodio Di labirinto Eccoci qui Praticamente io non ho idea Di dove io sia Che bello Sono tornato allo spawn In buona sostanza Per uscire dal labirinto Vi creerò questo breve tutorial Una spada in diamante È la nostra principessa Ma dove sono io? Questo è il problema Sono tornato al mio spawn E ho perso la principessa Ah ottimo Difendi lì Il tuo spazzo lo sono fegato Non è giusto Cibo Sì Cibo Siamo in sostanza 18 minuti Prima che il sole Se ne vada No no cibo Forse posso bere il latte Ma le trovo tutte io Le spade mai usate No Le trovate anch'io Che bello Si può bere il latte Vieni nel labirinto Aiutami Vieni a salvarmi Non so come uscire Io non ciolato Però avevo chiesto A Rihanna Rihanna Non me lo hanno perso Non so se conosci la leggenda Del Minotau Il filo di Rihanna Cioè No Quello là Sì sì Il filo di Rihanna Sì Quello là Dove il tizio Teseo penso Siete tutti fottuti C'ho l'arco e le frecce Io non ho le frecce Ma ho tipo Due archi Tre spade Ma E ti serve Sono Dove cavolo Ragazzi Basta Basta Oddio Bonser La smetti di spuntare Ogni due secondi Cazzo Ed eccoci finalmente Alla fine No E sul serio È successo così Non ci credo Sono Sono sul serio Alla fine del labirinto Dov'è la vostra principessa È quello che mi stavo chiedendo anch'io Dov'è la vostra principessa Che sono al vostro labirinto Anch'io sono al vostro labirinto Sono Sono in casa vostra E ora mando tutto a fuoco Hai dato fuoco alla nostra casa Sì Uscirà ai vostri Ma il maiale cosa Io Io vi Io vi griffo la casa Maledetti Ma Ma scusa ma Qua non ci dovrebbe essere Io sto griffando la vostra casa Così impagno Allora io sai cosa faccio Grifo la vostra farm No La farm no Sei distruzione Non è una farm Dov'è finita Sei un case Ragazzi Ma dove siete Nella vostra cassa del lente Non c'è niente Vediamo nella vostra Che cazzo You're a prison defender Cos'è You should die Dove l'avete messa Sì ecco la farm Distruzione della farm È in corso Buy house Distruzione del vostro campo di coltivazione Perché sono cattivo Oh Si sono chiuse Che succede Non ne ho la minima idea Si sono chiuse le porte Sono nel vostro spawn Con le porte Io sono nel vostro Ma Ma cos'è Cioè Dove sono le principesse Oddio Stai sfruttando tutto Non capisco più niente Ma Non ci fa la vostra mucca La mucca non muore No Non ci fa Sto minigame Sta diventando Totalmente no senso Adesso prendo una torcia Paura Sta diventando un horror Run Run to the home Corri a casa Ma io sono a casa Sarò forse l'unico in casa Aiuto Sento qualcuno che grida Che succede La principessa ha bisogno di cibo Guarda quante gente Tutti qua Oddio Griever Eh vabbè E io ragazzi Cosa faccio Quel coglione è morto Aspetta Forse uccidono anche me Perché non sono al mio spawn Ma sono al vostro E io sono nel vostro Ok È iniziato Il survival di Minecraft Allora ragazzi Benvenuti in questa nuova puntata Di survival Oggi vi mostrerò Come si trova il diamante Bene Innanzitutto Innanzitutto È completamente distruttibile In questi 15 minuti Voi non dovrete fare altro Che Sedervi con tranquillità E osservare me Che vado alla ricerca Del diamante Eeeh No basta Ma c'è la bedrock C'è la bedrock Sì Non si può Non c'è il diamante No Ma perché Ma c'è la pietra Da qualche parte Per farmi Un piccone Con cui distruggere Il labirinto Forse C'è della pietra Hai visto della pietra Sento esplosioni Che succede Che cade Stai arrivando Anche io No luce Luce Sempre Quelle di aerobin What the fuck Hunter ma se io metto Una cosa nella cesta Tu la vedi Tipo ti metto Ma che succede Si stanno aprendo Le porte Aiuto No no Round 2 Round 2 Mi sa che Mi sa che Le regole che ti ho detto Sono totalmente sbagliate O qualcosa di simile Sono usciti Degli zombie Dalli spawn E' un survival Dentro E' un survival Con il labirinto Tipo Si Oh che bello Arco freccia e corazza Che cos'è questo coso Questo zombie Si chiama griever Dio medusa Che cazzo di bestemmia è questa Dio medusa Non si fa niente Dio tosta pane Dio Aiuto Sto laggando Oh aiuto Sono circondato da questi strani zombie Che mi vogliono Altamente pedofiliciare Ah il mio piccone Ah qua il mio piccone Si può Voglio distruggere il labirinto No non si può Eh Ho fatto fuori un tizio Ah io Stavo male alla mano Sono perso Ma 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 No No ma non si può Ottima idea Lo liggiamo il campo Ragazzi ma dove siete Dove siete Non si Ma Io ho distrutto la tua Ma io la tua Ma chi mi ha detto Di fare questo minigame White White Sei un Parbone Oi Ho sentito Ho sentito la voce Della principessa La sento La sento Si vedo un player Raggiungiamolo E facciamolo buono Non dire che hai visto me Perché È morto Ma Non hai visto me Io non muoio mai No ma No Dove siete ragazzi No un'altra cosa Un'altra Oddio È tipo una zona Hungergame con land Io Io torno alla vostra No davvero c'è land Andiamo al land Si può chiamare Perché non c'è più Attenzione Questo è un buco nero In mezzo Bellissimo Si l'ha creato Sono tornato al vostro studio Ma perché Ah Ho scoperto che le principesse Sono al centro del labirinto Ma io sono al centro del labirinto Insieme E allora perché non le vedi Io le sentivo Dobbiamo trovarle qua dentro Uno zombie mi inseguiva È caduto tipo nel land Ed è scappato Eh Ho scoperto la via veloce Per fare tipo Spawn mio Spawn vostro Ma io sono vicino allo Spawn vostro E sono in una specie di Di Bucco nero Non so come chiamarti Si è finito dentro per caso Eh no Non mi fa entrare Un'altra cesta Ho visto un player Ho perso Sì non morire Non morire Non è il momento di morire Ok Troverò qua qui Dove sei? Dove sei? Social channel Dove sei? Mi troverò E ti ucciderò Ci trovate su youtube ragazzi Solo uno di quei commenti non sai Ci trovate su youtube Se trovo l'uscita di questo labirinto Mi iscrivo Ah ragazzi Oh una cesta Oh Sono tornato due prima Mi fate che per un attimo Una cosa di questo Cosa? Ma tipo l'obiettivo è ammazzare tutti gli altri? E' ammazzare la principessa nemica Il problema è che sono sparite Se ti piacciono i suicidi entri nel labirinto Se sei una persona come tutti non entri Facile A me piace suicidarmi Doveva essere un minigame veloce Ok è finita sto per morire Come back to work La notte è arrivata La notte è arrivata Siamo in quattro Tu sei l'unico nemico oltretutto Dobbiamo accoppare per Ma che schifo Mi ritrovavo in una squadra di interdati Lo ammetto Vieni 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 Praticamente Ma che vuol dire Dai vieni qua Io sto per me Dai vieni qua Eh dai vieni qua Eh dici ingegneri Ma di che stiamo parlando Questo è Minecraft Ho visto una cesta Tramite un bug Magari vedessi qualcosa Devo trovarti Oh mio dio Ma chi è creato questo bravo No No Greep Ma chissà quanti chilometri si estende questo coso Ma Cesto con stivali Eh si è fatta notte Va bene Avete vinto No anch'io sono nel labirinto Intenti No Esci 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 dal labirinto Esci Sì 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 Cos'è Sì No Sì Cos'è questo posto Aiuto C'è sabbia C'è Sonsad Allora adesso vengo a occuparti Dove sei Eccolo Eccolo Non uccidermi Non uccidermi Non uccidermi Mi vedi Tu meriti la morte No Che succede Non riesco a colpirti Io sparo freccia per terra Ehi Sto lasciando Aiuto Che cosa sono Ma ci attaccano Che succede Mi attaccano Ehi Sono caduto nel buffonet No Aiuto Sto bruciando No 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 Che cosa è successo Aiuto Sto morendo Lo sapete Sono lì Sono nella lobby Sto morendo Ma che senso No You died You are No A bait of blame Aspetta Mi hanno buttato Nel buco Un'errore Silverfish Cret Grazie Ti sconnessi Al server Grazie per aver giocato Ma Mio Ragazzi Se volete provare anche voi Questa esperienza No sense Mi lasciamo un server In descrizione Poi Poi Se qualcuno ci sa Ci spiega le regole Ciao a tutti 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 Ciao a tutti